Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per essere in alcuni casi tornati alla nostra sessione di audizioni 3.0 dedicata al tema delle biblioteche delle donne e i diritti. Intanto dopo una mattinata di lavoro insieme agli studenti di scuola secondaria di secondo grado, delle classi quarte e quinte superiori, insieme anche ai ragazzi del servizio civile, dopo appunto una mattinata di lavoro intensa e comunque ricca di confronto, davvero una bella mattinata, iniziamo i lavori del pomeriggio. Il pomeriggio che vedrà una tavola rotonda dedicata sempre al tema delle biblioteche delle donne e la violenza di genere, tavolo che vedrà come relatrici alcune rappresentanti intanto della nostra biblioteca Margherita Ferro dell'Udi di Genova e delle rappresentanti intanto dell'AIB nazionale e AIB Liguria che patrocinia l'evento di oggi, AIB che sta per Associazione Italiana Biblioteche, alcune docenti universitarie e altre rappresentanti delle biblioteche delle donne d'Italia, alcune in collegamento streaming, alcune in presenza. Prima di iniziare, di entrare nel vivo della tavola rotonda e di chiamare le relatrici, direi che possiamo mostrare, per qualcuno sarà nuovo, per altri no, un video che abbiamo realizzato in presentazione della nostra biblioteca, la Biblioteca Margherita Ferro dell'Udi di Genova, che è situata nella sede dell'Udi, sede che condividiamo con il Centro per non subire violenza, in via Cairoli 146, un video di presentazione alla nostra biblioteca, che appunto adesso la vedrete meglio. Il video è stato realizzato da un insegnante che si è dedicato a questa iniziativa, Andrea Cantisani, appunto che lo ringraziamo per le riprese e per il montaggio. Quindi se possiamo proiettare il video e poi iniziamo. Grazie a tutti. 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 perché a tutti. Grazie 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 a tutti.